Francesco e Pino Faraca sono stati celebrati grazie ad un doppio appuntamento che è interessato sia agli amatori che i ciclisti professionisti, con il quarto bici in città Memorial Francesco Faraca e il primo trofeo ciclistico Memorial Pino Faraca. Per tutta la mattinata il centro storico cosentino è stato invaso dagli amanti delle due ruote, con intere famiglie che sono scese in strada di prima mattina per poi lasciare spazio ai professionisti che su un circuito di 63 chilometri si sono dati battaglia. Una bellissima giornata all'insegna dello sport, sostenuta dal comune di Cosenza e alla quale hanno partecipato circa 150 ciclisti, provenienti da tutta la Calabria, che hanno pedalato in memoria di Pino Faraca, recentemente scomparso, e del papà Francesco. Ricordiamo che Pino è scomparso il 4 maggio dello scorso anno, all'età di 56 anni, per un male incurabile, lo stesso che colpì suo padre Francesco tre anni prima. Pino Faraca, che era anche un apprezzato pittore, vive e vivrà sempre nel ricordo di chi lo ha amato e ne ha osannato le gesta.